bentornati dunque sul sul canale bentornati sul canale dunque vince vince l'inter vince di goleada vince di goleada faccio anche fatica francamente a ricordare tutti tutti i marcatori scherzo è una risposta però molto molto convincente molto molto convincente si ripete peraltro lo stesso risultato della passata stagione inter bologna 6 a 1 con un'evoluzione differente perché l'anno scorso il gol del bologna della bandiera arrivò solo alla fine con teat questa questa volta invece all'inizio un 1 a 0 totalmente fortunoso un tiro di orsolini che sarebbe finito penso a 20 metri 15 metri dalla dal palo della destro della porta di unana sbatte sul fondo schiena di lico giannis e si va insaccare in maniera imparabile è tipica trama no tipica trama delle partite l'inter nel momento no che ti dice tutto male va tutto male tutto va male e invece sei e muti e invece sei e muti perché perché l'inter reagisce con le armi che che ha continua a fallire clamorosi gol praticamente fatti anche stasera almeno un paio e e ne fa di di clamorosi e ne fa di clamorosi i due di di marco una un piazzato diretto sul palo del portiere l'altro che ha ricordato per certi versi adriano proprio contro il porto in questi giorni in cui si è ricordato appunto l'incrocio con i portoghesi e la tripletta di adriano almeazza e il gol bellissimo di lautaro su spizzata sul primo palo che ha ricordato quelli che faceva di biaggio no qualcuno di voi se li ricorderà su cross da angolo di dire cobera era uno schema o dire covo di emre era uno schema ormai da copyright di quell'inter lì il pareggio di gecko penso sia una gemma rara già tra i primi possiamo già metterlo l'incastonarlo tra i primi tre posti dei gol più belli della stagione non solo dell'inter ma penso in generale e anche qui un ricordo nobile zidane nella finale contro il bayern lefercuse nei tempi del real madrid e già siamo a quattro il rigore evidente per parata di di sosa che appena entrato poverino ha preso una bambola da da dunfries traversa di gecko una bambola da di marco gol e poi ha parato sul tiro a colpo di sicuro di gecko calcio di rigore finalmente batte c'è la nolu finalmente dico perché basta andarsi a vedere quelle che sono le percentuali di realizzazione agli 11 metri tre giocatori dell'inter c'è una è quella che c'è la più alta e se insacca spiazzando skorupski che è anche un discreto pararigori e poi alla fine c'è anche la ciliegina del gol del gol di gosens e sono i suoi gol no arriva palla palla deliziosa di gecko ma non ma non banale non facile da insaccare invece lui arriva coi tempi corretti colpo di piatto tra difensore e palo gol e poi c'è anche stato il tempo per un altro legno il palo di aslani un inter che insomma ha dovuto far fronte a una situazione complicata soprattutto all'eolo psicologico contro un avversario in grande salute che viene da quattro successi di fila se ci mettiamo dentro anche quello in coppa italia e non so quanti anni erano che il bologna non arriva non non riusciva a mettere insieme in anellare una una serie di di così tante vittorie peraltro aveva anche recuperato tutti di fatto 25 convocati fuori solo bonifazi quindi un bologna che arrivava col morale altissimo nel pieno delle proprie potenzialità e anche in maniera l'ha dimostrato l'ha dimostrato anche in maniera evidente no nei primi nei primi minuti però poi ci sono quegli episodi che ti fanno svoltare la partita e questa volta l'episodio è arrivato perché l'inter se l'è meritato hai voglia a dire l'inter stava soffrendo in maniera psicologica era un inizio un po titubante il bologna avversario forse come ha detto borca valero nella partita uno dei peggiori che potesse beccare l'inter in questo momento e però è risotto 1 a 0 per un colpo di culo ma nel vero senso della parola non solo un colpo di fortuna ma veramente un gol di natica visto fare solo a inzaghi ma comunque con una palla che andava nello specchio qui la palla veramente finiva piazzale lotto e il povero nana se l'è ritrovata le spalle un po come gli era già capitato nel recente passato non ultimo la direzione di go senza sul gol di fagioli quindi un inter che risponde nella maniera migliore con una prestazione convincente di qualità con qualche alternativa e soprattutto andando a superare non solo l'iniziale sfavore psicologico ma anche superando quello poi attuale visto lo svantaggio pressoché immediato e contro un avversario ripeto non di primissima fascia ma che nell'ultima partita aveva battuto il torino che prima aveva battuto il milan no po come diceva branduardi e allora devo dire tre punti importanti soprattutto se analizziamo il pari del milan il pari della roma e il ko dell'atalanta e questo sì inaspettato a lecce classifica cortissima e se ci andiamo a se leggere vediamo che a parte il napoli no perché poi la sostanza è quella a parte il napoli che sta facendo qualcosa di clamoroso non è non è peraltro inusuale per spalletti partire così forte c'è una differenza rispettare altri anni la distanza da chi insegue nelle altre grandi partenze di spalletti non aveva non aveva questa questo distacco ampio invece adesso è partito molto molto bene come spesso gli capita negli ultimi anni e soprattutto una distanza molto ampia ma a parte il napoli sono tutte lì milan inter lazio atalanta vediamo juve e lazio appunto domani roma e si sta un po staccando l'udinese e quindi un bel campionato e soprattutto alle spalle del napoli difficilmente il napoli potrà continuare così il discorso è che appunto il grande vantaggio accumulato potrebbe comunque essere sufficiente agli azzurri anche a mantenerlo comunque un margine di sicurezza nonostante qualche magari futuro passo falso che non credo che le altre li vinceranno tutte poi per carità tutto è possibile però è un campionato che sta dimostrando molto molto particolare come è giusto in pochi oggi si aspettavano questa questa reazione da parte dell'inter è tornata una reazione che va sottolineata al di là del punteggio al di là dell'avversario al di là di tutto va sottolineata perché per come è arrivato questo successo con gioco con idee con una frenesia che ci si poteva aspettare ma che invece è stata molto limitata alle prime fasi di gioco e quindi questo è un secondo me un riallacciare il discorso che si è interrotto in quel di torino e che va a confermare quanto vi dicevo negli ultimi video occhio chiaramente giusto lo sconforto giusto lo scontento ma occhio a dare un'importanza eccessiva o a non vedere correttamente il capo di torino con la juventus perché con tante analisi vai a determinare vai a capire poi bene l'evoluzione magari anche provare a prevedere in minima parte quello che può succedere un saluto grazie a tutti